E' tempo di conti in Sicilia. La Regione ha approvato il rendiconto del bilancio 2021 con grande soddisfazione da parte dell'esecutivo di Renato Schifani. Il Governo ha dato il benestare al rendiconto 2021, mettendo nero su bianco numeri in chiaro miglioramento per la Regione. Voglio citare a titolo esemplificativo tre dati. L'indebitamento rispetto al 2020 passa da 6,8 a 6,1 miliardi, mentre al contrario aumentano i pagamenti effettuati da 18 milioni nel 2020 a 23,5 nel 2021, ha detto l'assessore all'economia Marco Falcone, commentando l'approvazione del rendiconto 2021 in giunta. Sono risultati a concluso su cui il Governo regionale intende costruire un equilibrio finanziario sempre più virtuoso e certo. Stiamo mandando avanti, continua invece il Governatore Renato Schifani, un'azione decisa e proficua di regolarizzazione dei conti della Regione, grazie alla quale potremo essere reattivi rispetto alle esigenze sociali ed economiche della Sicilia. Inoltre, l'allineamento degli strumenti finanziari ci consente di fruire di opportunità, quale il potenziamento della macchina amministrativa, attraverso lo sblocco delle nuove assunzioni e la prospettiva di nuovi finanziamenti.